salve ragazzi qui del 38 eccoci allora siamo su me mi arriva il mitra san stava magnam allora situazione abbiamo completato la missione credo di morbius le sue missioni mini missioni come quella di death pool e sia di venom però abbiamo un po di cose da fare vedo it's hard fighting the earth to say something corny and uplifting before battle c'è sta ecco di qua cosa vuoi o più 5 di saluto e hunter meglio così aumenta la salute il potere di offensivo e per forza dove 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 sei ti va di passare un po di tempo insieme dobbiamo livellare lui intanto da me è arrivato un messaggio di un mio amico sentiamo cosa per dire ok dimmi quando ci sei che apro poi discord perfetto ok continuiamo ragazzi grazie per risponderti me hunter ho bisogno di freddo di freddo dopo questa ultima missione sono sorpreso che hai freddo di freddo di freddo il mio symbiote aumenta il mio metabolismo aiuta a rinforzare rapidamente quindi non bisognavano una straccia di rinforzare? e perché sono così popularmente quando si freddo di freddo di freddo di freddo di freddo di freddo? a tutti i nostri amici spettacolo a me spettacolo a me spettacolo perché devo capire la maggioranza di questo sono nata con capacità di fantastici o sono riusciti a loro dopo che si sono freddo in radioattive alien Eddie, tu è praticamente in grado di aliena che permette di che metti a farmi di pietra si, certo non è stato certo il symbioca mi ha dato fantastiche ma non posso confiarlo per tutto ho mantenuto la condizione di piccolo in caso che il mio altro si è comprometto i tuoi parents ti instillano con questa etica di lavoro credo che puoi dire mia madre morse in città e il mio padre me ha scusato ho spavato la maggior parte della mia città cercando di mesurare ad questi mondi non attainibili cavolo questo è un colpo pesante non lo sapevo di Eddie Brock del fatto che è morto sua madre quindi non la mai conosce che tristezza e quindi è nato solo con il padre cresciuto figurate il padre là io sapevo che il padre ha tratato uno schifo comunque questo lo sapevo non ho benato il 25 di carte attacco non consumo vorrà ah non consumo velocità perfetto ok ah questa l'hanno finito grande vediamo qui che cosa abbiamo giocato smam sbam no niente di più niente di me apposci figo ok ora però abbiamo delle cose da fare cosa credete che non lo faccio non lo devo creare eh apposto ora però c'è un fatto possiamo creare sia questo questo ancora no però questo si però facciamo questo analisi ok figo uno e due dai grande studio perfetto allora andiamo un attimo qui eroi morbius allora morbius tu personalizza vestiti uh bello questo a lui ci vedo così è vestito bianco no nero si quasi quasi gli metto questo invece da battaglia essendo che abbiamo finito il suo costume io preferisco farlo così lui che colore ha viola c'è la mezzo violacce oh vedi è figo però preferisco vestito normale che lui è uno scienziato è orribile invece tempesta tempesta è Grazie a tutti. Grazie a tutti. Nooo, oddio, quel colore lo conosco purtroppo. E' tecnicamente il suo colore. Allora, questo no, però avevo visto uno figo. Madonna, questo è orribile. Allora, questo è una citazione di uno dei suoi costumi vecchi. Arga pirata, bellissimo ragazzi, versione pirata è stupendo. Però manteniamo il classico. Però... E' bellissimo. Questa la prenderei per tanti motivi, però rimaniamo col costume, dai. Invece, Morbius è andata, Venom, Venom, personalizzazione. Oh, finalmente, che cosa c'è qui? Non è un cacchio di costume, vabbè. Poi, che abbiamo qui, no? Assolutamente no. No. Oh, mio Dio, ma no. Oddio, il colore di Deadpool mi mancava. No, questo è figo. Cioè, mi piace quello che sta disegnando. Nerina, smettila. Smettila. Grazie a tutti. Ma no, no, non ha altri colori per te. Mamma mia, che tristezza. Solo che te... Sai qual è il problema? Che questo costume... Il problema è il taglio di capelli. Lo manteniamo così? Il problema è il palazzo. Ok prendiamo questa versione qua Ciao Ho deciso Preferisco di più La pratica fa perfetto Figurati se non c'era il potenziamento Noi abbiamo di roba interessante ragazzi Si sta andando vedendo se c'era Aspettate No infatti Avevo capito che c'era solo questo Ok Io comunque per attenzione tutto ragazzi Can't wait to see how this goes down Hydra won't want to tussle with me now Ecco mi piace di più ragazzi Preferisco più cose di tempesta Ok figo Mi piace di più ragazzi Mi dispiace dirlo Oddio Tutto Avete visto Ok Bene adesso dovremmo essere tranquilli Ah Morbis ancora Ah Allora posso fare uno qualsiasi Sai che famo Con Deadpool Dai E lo faccio proprio con Morbius Così sale un po' di livello Bella C'è sta Intanto ho fame Sembra strano ma io sto mangiando Quindi sono secondo Buonissimo Lo so che non mi vedete E meno male Ma è tanta roba Ecco Sto venendo di posticare Magari Magari puoi dare loro una lezione Che non li ricordano Siamo iniziata Attacca Bella Bella Vedi quando serve Siete utili a qualcosa Madonna Con cattiveria Direttamente all'avversario Grazie La storia è stata segnata. Tu sei troppo forte per questa combina. andata ragazzi cosa ho appena combinato bella comunque il costume di Deadpool somiglia palesemente a quello la del gioco della PS3 comunque per chi non l'ha mai giocato fidatevi ci somiglia moltissimo ah il coso per curare è vero ma ho scordato che esiste questa cosa si ragazzi ho fame è anche ora di cenere in realtà è una madonna no 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 leave some for the rest of us a ver come lo so bevamo già i'm gonna get you lol 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 ok è andata tocca solo lui se poi mangiamo l'ultimo vabbè non ve lo faccio vedere perché sennò uno dice ma come stai mangiando che lo so però tenito fama che volete bello bello non bello che è che bello è bello che è bello mangiato scusate ma è l'ora di cena non c'è niente in che senso che arrivano i guai? no non c'è niente ora posso anche andarmene voglio fare una cosa ma inventario cioè buongiorno ero ma capitale america personalizza lo può avere la versione ah ce l'ha vedi ce la può stare lui varia ogni giorno si ma perchè i costumi di certi personaggi infatti a lei mi piace molto questo costume può essere pure figa è così dai la lasciamo così è per il tie che mi tengo questo costume a lei mi piace molto no perché lui si trasforma in quello vabbè rimanere sempre con strada il classico Iron Man me lo vorrei cambiare perché lui non se lo può quindi no credo che il suo va bene così stavo vedendo quale potrei fare i cambi continui lei ad esempio non mi ricorda il suo costume ragazzi non so bene no vabbè certo che no ah ecco infatti si ok no no questo mi piace infatti di più però si mi piace molto di più il colore ah giusto che lei era tutta bianca così non mi ricordo se è più bello così no così va bene così lasciamola così lei invece con la personalizzazione però me la possiamo lasciare anche così a lei però però il combattimento suo che ne vede la cambia un po' o la rimetto come era prima come solitamente si mette dai dai la rimetto come le vestite dai ok ok te invece vorrei cambiare il suo colore che era bellissimo questo però mi piaceva cambiare un po' eh il suo vero colore è questo qua eh questo lo adoravo troppo la invertiamo? si invertiamo il colore mi piace di più spiderman è rimasto uguale voi lo lasciamo uguale ok basta la smettiamo ragazzi ecco cambiamo un po' i costume ragazzi così mi piace di mi piace di più che posso farci ragazzi ah piuttosto qui è aperto qualche negozio qualche se figurati quasi apri va bene andiamo c'è il senso stacchi andiamo a riposare ok ok andiamo c'è un po' un interrogativo buona ziua oh sei tu qua ok è un po' un po' Piazza. Siamo pronti per andare ancora, sparringman? Ecco, grazie, Hunter. Ma una domanda Perché mo mi sorge Madonna Mi sorge spontaneo ragazzi Ma una domanda Come faccio a ottenere Scusami Ah 145 ancora Com'era per vedere Quelle statistiche fratello Sorella Ah eccolo qui Vedi Ancora 145 Devo arrivare a 150 Per Per avere Quel costume Di luce Per avere Per essere In questa non c'è nessuno Ho già pronto per la prossima missione Tutto leggendo oltretutto Questa è sicuramente tosta ragazzi Perché mi sa che l'ultima missione Per Morbius Quindi qui del 38 Al prossimo video passo e chiudo Bella raga